Nasce a Castel Bolognese il progetto di comunicazione aumentativa alternativa, un approccio volto a individuare modalità di comunicazione alternativa attraverso diverse strategie e strumenti per permettere di comunicare, di includere in maniera attiva anche chi non riesce ad esprimersi utilizzando il canale verbale o chi ancora muove i primi passi nella lingua italiana. Un progetto che nasce a Castel Bolognese grazie alle associazioni Autismo Faenza e FareLeggereTutti. Sindaco, Città in Cia è un bel esempio di un comune che anticipa i tempi, in questo caso nella Romagna faentina, e guarda a chi ha più difficoltà. Sì, è un'iniziativa molto bella a cui abbiamo addirittura volentieri. Ovviamente c'è stato chi ha promosso questa iniziativa e che ringraziamo. L'associazione Autismo, l'associazione FareLeggereTutti, in particolare Rotary Club che ha sostenuto economicamente l'iniziativa, il comune sicuramente ha aderito, ci ha messo del suo, perché pensiamo che sia uno dei compiti istituzionali più belli, più importanti, quello di essere vicini alle persone che hanno delle difficoltà. Fondamentalmente si cerca con delle tabelle di dare delle indicazioni in più quando si entra in un esercizio commerciale. Sì, fondamentalmente il progetto è semplice, allo stesso tempo però è un progetto che ha una base scientifica, quindi sono delle tabelle che sono state ideate e studiate proprio per agevolare per le persone che possono avere delle difficoltà ad avere i servizi che l'esercente oppure il luogo pubblico fornisce.